e credo insomma che sia un bel risultato per tutti quanti. Grazie a voi che siete qui all'imprezzosire il momento e ancora una volta grazie, grazie ambasciatore, grazie per la grande amicizia che ci avete dimostrato. Buonasera a tutti! Molto contento oggi, lui insieme a tutti i tanzanesi qui oggi presente, perché non è venuto solo, quindi invita tutti i tanzaniani qui dietro a lui oggi, ora. Quasi tutti i marchigiani possono vedere che siamo venuti in tanti proprio per dimostrare quanto vogliamo questa amicizia. Alcuni di loro sono in costume tradizionali. Innanzitutto vorrebbe ringraziare il sindaco e ringraziare anche tutte le autorità che sono state presenti stamattina e tutte le persone che erano presenti stamattina e tutti quelli presenti. Io oggi voglio ringraziare stasera per la vostra presenta. La nostra cucina tanzaniana. Io ne ho ricordato una sommea, io ne ho ricordato una sommea, una sommea in grigie, la quindica a Samao qua via, lì si si natuca a Tanzania, lai Lemiriani natuca a Zanzibar, qua siamo sisi nua tua, gli ammuri, gli ammungano, la Sama via! Chi vi ha letto e vi ha tradotto nel menu, vi ha letto semplicemente gli ingredienti e si è dimenticato di informarvi che Ndisi, quindi la specialità fatta di banana, platano con latte di cocco e carne, è una specialità proveniente dal continente, mentre i biriani, il riso colorato come l'agnello, è un piatto tipico dell'isola di Zanzibar, noi siamo unione mungano tra Tanganyika e Zanzibar. Grazie a tutti!